Ben trovate a Star News Flash della domenica. A Caltagirone i carabinieri della stazione di Granieri hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari durante un servizio hanno sottoposto a controllo due persone che erano a bordo di una Jeep Renegade, il 34enne e un 52enne. Il più giovane ha tentato di far scivolare sotto la macchina un pacchetto di sigarette che però è stato subito recuperato dai carabinieri che lo hanno aperto e hanno trovato all'interno ben nove dosi di cocaina. L'uomo perquisito aveva in tasca altri tre grammi di cocaina, mentre il suo amico 52enne aveva nascosto nella tasca dei pantaloni una dose della stessa sostanza, motivo per cui è stato segnalato alla prefettura di Catania quale assuntore di sostanze stupefacenti. In un caso l'area di proprietà del 34enne, i carabinieri hanno poi rinvenuto due bustine di plastica contenenti l'una 5 grammi circa di cocaina e l'altra 3 grammi di marihuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga da smerciare al dettaglio, un panetto di mannitolo, sostanza utilizzata per il taglio della cocaina ancora in pietra, nonché alcuni fogli di blocnotes con numeri e nominativi. L'uomo è stato quindi arrestato. La polizia di Stato di Adrano ha sorpreso un uomo di 38 anni di Tortorici, mentre trasportava alcuni animali in condizioni pietose all'interno di un furgone non idoneo e senza alcuna autorizzazione, che l'hanno intercettato lungo la strada statale 284. Il 38enne viaggiava spedito per fare rientro a Tortorici alla guida di un furgone cassonato, che è stato fermato e sottoposto a controllo di polizia. All'interno sono stati trovati tre agnellini di circa quattro mesi e un vitellino di appena dieci giorni, tutti in evidente stato di particolare sofferenza con le zampe legate, riversi sul pianale del veicolo, in uno stato angusto, senza alcuna forma di areazione, con un caldo asfissiante se si considera che persino la ventilazione all'interno del mezzo è risultata ostruita da lamiere, peraltro roventi, viste le alte temperature. I poliziotti hanno immediatamente liberato gli animali dai lacci e rimosso il pannello in lamiera per consentire condizioni più favorevoli in attesa dell'intervento del personale veterinario dell'ASP che ha prestato le cure agli animali, in particolar modo al vitellino che presentava un vistoso ascesso. Inoltre i controlli hanno permesso di constatare l'assenza di auricolari e di marchi di identificazione fondamentali per il tracciamento animale a tutela della salute pubblica, motivo per cui si è proceduto ad applicare i marchi in dotazione specifici per specie, con registrazione dei tre agnellini e del vitellino che sono stati sequestrati amministrativamente e trasferiti con un veicolo idoneo autorizzato. È emersa la totale assenza di documentazione utile e necessaria prevista dalla legge per il trasporto di animali vivi. Pertanto al conducente del mezzo sono state combinate sanzioni pecuniarie e in quanto proprietario degli animali è stato denunciato in stato di libertà per il reato di maltrattamenti che prevede la reclusione da 3 a 18 mesi e una multa da 5.000 a 30.000 euro. Pauroso incidente stradale intorno alle ore 13 di oggi lungo la strada statale 114, la Catania Siracusa in territorio di Augusta. A rimanere coinvolti quattro mezzi, tre i feriti di cui uno in condizioni più gravi che per questo motivo è stato trasportato d'urgenza in elicottero in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. L'elicottero è atterrato sull'autostrada poco distante dal luogo dell'incidente. Sul posto diverse ambulanze del 118 con il personale sanitario che si è preso cura dei malcapitati, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e la polizia stradale per effettuare rilievi. Da una primissima ricostruzione della dinamica dell'incidente ma deve essere ancora da stabilire sembrerebbe che il conducente di una delle auto coinvolte non avrebbe notato in tempo l'incolonnamento di auto che vi era in quel momento e nonostante una lunghissima frenata visibile anche sull'asfalto avrebbe violentemente speronato un'altra auto, creando così un effetto domino che ha coinvolto gli altri mezzi. Come detto però è tutto in fase di ricostruzione, si sono vissuti momenti di vera paura per i presenti, il transito veicolare in direzione Catania è rimasto interrotto per diverse ore. Solo dopo la rimozione dei mezzi e la ripulitura dell'asfalto invaso da oli e detriti è stato possibile riaprire la strada con la circolazione che è tornata ad essere regolare. Mattinata dedicata alla pulizia ambientale, quella di oggi vissuta incontrata a pietra lunga nei pressi del ponte romano in territorio di Paternò organizzata dall'associazione Plastic Free. I volontari si sono dati appuntamento di buon mattino per attuare l'azione di pulizia straordinaria tutela dell'ambiente. A supportare Plastic Free, Vivi Simeto, 350 Sicilia, le associazioni Agire, Misericordia e Avuls. Circa 50 i volontari provenienti da Paternò, Mister Bianco, Belpasso, Santa Maria di Licodia e Catania. La spazzatura raccolta verrà smaltita domani dalla Dasti, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città di Paternò. Sono stati raccolti 15 sacchi di plastica, 29 di indifferenziata, 9 di vetro per un totale di circa 500 kg di spazzatura. L'evento di oggi è collegato al bando regionale a cui Plastic Free sta partecipando per intervenire lungo il fiume Simeto ed infatti altre iniziative del genere sono già previste a settembre anche ad Adrano per poi finire a Catania. Chi siamo noi? Plastic Free! Chi siamo noi? Plastic Free! Prima giornata a Bronte dedicata allo sport, alla solidarietà e all'ambiente. Questa mattina tantissimi bambini, genitori e ciclisti hanno partecipato alla passeggiata in bicicletta Il Chilometro del Pistacchio, organizzata dal Comune in collaborazione con l'ASD New Energym, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana. È stata l'occasione per vivere serenamente la città e contribuire alla ricerca indossando la maglietta della Fondazione Teleton che giovedì 27, sempre insieme con il Comune di Bronte, organizza l'evento Camminiamo per la vita con il concerto live della Tribù del Blasco alle ore 20 e 30 in Piazza Spedalieri. Stamattina a partecipare anche tanti appassionati provenienti da altri comuni come Adrano e Bronte presenti all'evento il sindaco Pino Firarello e il vice sindaco Salvatore Pizzuto, gli assessori Angelica Prestianni che ha organizzato l'evento e Maria De Luca. Con loro anche l'onorevole Giuseppe Castiglione, Alfonso Scandurra, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana e l'assessore del Comune di Maletto Melo Melardi. Il gruppo di ciclisti partito da Piazza Piave pian piano ha raggiunto Piazza Spedalieri dove i bambini hanno provato un mini circuito allestito dall'associazione New Energy, alla fine gelato al pistacchio per tutti offerto personalmente dal sindaco. proprio quello di iscrivervi anche al canale Whatsapp e troverete il link nella nostra pagina ufficiale di Facebook.